Ci siamo, è ormai alle porte il momento dell'anno in cui Arezzo brilla di luce propria. L'edizione di Oro Arezzo 2017, la numero 38, è in calendario da sabato 6 maggio a martedì 9 maggio. Come al solito le attese sono tante da parte degli operatori, intanto si annuncia un incremento di buyers. E mentre Arezzo si prepara al suo appuntamento più importante, il meglio dell'arte orafa, dell'artigianato e dell'enogastronomia toscana andrà alla conquista di New York, con mostre, eventi e incontri con operatori provenienti da tutto il mondo. Un evento eccezionale, una grande opportunità per le imprese del territorio, reso possibile grazie al progetto Consorzio Vasari. Al progetto parteciperà anche lo stilista orafo Antonio Palladino, napoletano di nascita ma adottato dalla città di Arezzo, conosciuto al grande pubblico come l'orafo animalista. Con una tecnica particolare, infatti unica nel suo genere, riesce a dare un'anima ai suoi gioielli, ispirati per lo più alle creature marine e agli animali in genere. Segno distintivo, la tigre e il polipo che si muovono come se fossero vivi, ma c'è anche il nostro bel paese tra le sue ultime creazioni e un moderno Romeo. L'evento americano è reso possibile grazie alla collaborazione della Regione Toscana, di Confartigianato, CNA, Confindustria, iBridge e dalla disponibilità della Camera di Commercio Italo-Americana. Le aziende che aderiranno potranno partecipare a workshop specifici e sono previste anche dimostrazioni con i maestri orafi e artigiani che potranno creare in diretta i loro prodotti unici.